Ciao, buongiorno a tutti. Oggi mi trovo qui davanti al comune di Ceniselo Balsamo e mi trovo con questo spettacolo del cartello. C'è anche Mironi che si era dimesso, il cartello del sindaco. Ok, di fronte a questo bellissimo cartello possiamo trovare, prima, guardate dove questo signore sta attraversando e l'angolo è proprio fuori luogo, pensiamo su questo. Poi abbiamo il palo che c'è scritto fuori dagli spazi delimitati, il diritto di sosta che lo troviamo per terra. Veramente lei, caro sindaco, la deve finire di foto, selfie, deve prendere cura della nostra città. La città è completamente abbandonata. Io già non so come dirlelo. Lei continua a farmi querelle e continua a fare selfie, ma con le querelle le non andrà a nessuna parte e molto meno con i selfie. Si occupa della città che è in un totale degrado, è in un totale degrado, è vergognoso nella condizione che ci troviamo. Io sono Sergio Agrello, cari cittadini, e insieme a voi voglio cambiare questa brutta storia. Sì, questa brutta storia che da quattro anni ha distrutto Ceniselo Balsamo. Seguitemi, non vi deluderò. Grazie a tutti. Grazie a tutti.